Benvenuta sul mio canale, ho un'importante comunicazione per te che segui le SOP turche Terra Amara. La puntata di Terra Amara, che era stata programmata per il giorno lunedì 15 agosto 22, è stata cancellata. Anche per l'altra soppopera un altro domani è stata presa la stessa decisione e la motivazione sembra essere molto semplice. Pare che questa decisione sia stata presa in base alla festività di ferragosto, pensando che molte persone non avrebbero potuto seguire o vederla, magari essendo in vacanza. E tutto ciò è stato fatto solo per non far perdere nessun appuntamento ai telespettatori. Quindi, lunedì 15 agosto alle 14.35 non vendremo la puntata di Terra Amara, ma riprenderemo a guardarla e rivedremo la programmazione normale da martedì 16 agosto, dalle ore 14.35 su Canale 5, per coloro che rimarranno a casa naturalmente. Ma ora vi dirò solamente tutta la programmazione di Canale 5 per il pomeriggio del giorno 15 agosto 2022. Alle ore 13.40 andrà in onda una puntata di Beautiful, che non ci abbandona o mai. Dalle ore 14.10 alle ore 16.45 verranno trasmessi due episodi di Grand Hotel. Alle ore 16.45 verrà programmato il solito appuntamento con Rosamall Filcher e alle ore 18.45 andrà in onda una puntata di Avanti Un Altro. E dopo tutto ciò vi invito a lasciarmi un like ed iscrivervi al canale e serie tv world spoiler.